Oggi è Forum PA, finalmente in presenza, presentiamo un progetto di ricerca elaborato in collaborazione con l'Università di Ferrara, in particolare con il Master Perfect per il miglioramento delle performance degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni e con il Comune di Ferrara, che ci ha permesso di ibridare due modelli per misurare le prestazioni delle organizzazioni, in questo caso il focus è la pubblica amministrazione e quindi presentiamo questo lavoro, un lavoro originale con il team di ricerca che lo ha elaborato, io ho seguito per l'Istituto questo lavoro. Di che cosa si tratta fondamentalmente? Si tratta di andare a testare con uno strumento proprio di misurazione concreto le organizzazioni, quindi anche le pubbliche organizzazioni, per vedere se la loro risposta rispetto all'efficacia della gestione dei progetti è adeguata oppure va in qualche modo rinforzata. Il test è partito dal Comune di Ferrara, però la nostra ambizione è quella in coda all'intervento di oggi di lanciare una sorta, chiamiamola Maratona delle 105, che sono le città medie italiane. Una di queste è Ferrara, da 150.000 abitanti, comunque la cosa importante è questa, conoscere la nostra amministrazione pubblica e fare in modo che la pubblica amministrazione si conosca, cioè un passaggio di autoconsapevolezza su quella che è la situazione di partenza e come poterla migliorare per gestire meglio i fondi, soprattutto i fondi europei, che poi sono quelli di cui si parla quando parliamo del piano nazionale di ripresa e resilienza.